Ciao a tutti, la dipendenza dai social network è simile all'alcolismo. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina di Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al mio nuovo canale, felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, anche qua dobbiamo appunto renderci conto di una cosa, che come usiamo i social network, come tutte le cose possono essere utilizzate in modo positivo o possono essere utilizzate in modo negativo. Sono un utile strumento di lavoro, ci permettono di interagire, ma non dobbiamo, diciamo, un conto usarli per lavoro, quindi tenendoli fondamentalmente al di fuori della propria vita personale, della propria vita privata, un conto è farli entrare in modo capillare nella nostra vita privata, nella nostra vita personale. E talvolta entrano in modo talmente capillare, diciamo, che vi sono persone incapaci, diciamo così, nemmeno per pochi secondi di stare lontano dei social network, perché soffrono di una sorta di crisi di astinenza. Una sorta di crisi di astinenza che poi alla fine è molto simile alle, diciamo, a chi? Agli etilisti. Cioè, ad esempio, diciamo, questa università che ha fatto degli studi, il ricercatore dell'Australia, una ricerca pubblicata su AJP, ha, diciamo, ha spiegato che, diciamo, ci sono fenomeni molto simili. Ad esempio, l'impulsività degli azioni, cioè azioni impulsive. Tutto questo avviene in modo analogo, diciamo, sia per i dipendenti da alcol, sia per i dipendenti da social media. Nei social media si include anche il telefono e internet in generale. Alcune persone, quindi, mettono in atto proprio delle modifiche comportamentali, modifiche comportamentali che hanno, diciamo, le stesse persone che sono dipendenti da alcol. Ad esempio, è stato scoperto che, diciamo, sono persone molto impulsive, che hanno comportamenti impulsivi e hanno uno scarsissimo controllo o gestione dei propri desideri. Sì, è quindi una vera e propria tossicodipendenza, diciamo. E bisogna, quindi, aiutarli, perché se da soli spesso non riescono a liberarsi, diciamo, ma questa forma di dipendenza che poi condiziona tutta, condiziona tutta la loro vita. La differenza, diciamo, tra la dipendenza da alcol e quella, e la dipendenza da social network, è quella che, mentre la dipendenza da alcol è più ancora, anche se stanno un po' cambiando le cose, però, attualmente, è ancora più un fenomeno maschile, invece, la dipendenza da social network riguarda equamente entrambi i sessi. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti a un nuovo canale, felicità, benessere, tutti i posti e i link in descrizione. Ciao.